Ciao a tutti, dalla scorsa settimana abbiamo iniziato il look legnano che è l'inux user group di legnano qui in provincia di milano e si trova a nord ovest di milano quindi per chi fosse interessato noi ci troviamo il mercoledì sera e abbiamo iniziato a fare delle lezioni, delle lezioni anche tecniche sul system admin di linux ma anche sul web e in particolare ho voluto introdurre ogni mercoledì faccio 10-15 minuti di introduzione di OpenStreetMap adesso rifaccio questa presentazione breve proprio sull'inizio dell'utilizzo di OpenStreetMap perché la registrazione non era venuta bene e quindi la rifaccio subito allora OpenStreetMap se andiamo sul blog in Italia OpenStreetMap è una mappa libera, è un progetto che punta a creare e rendere disponibili i dati cartegrafici liberi e gratuiti a chiunque ne abbia bisogno il progetto è stato lanciato perché la gran parte delle mappe normalmente si pensano libere hanno in realtà restrizioni legali o tecniche vedendo quindi alle persone il loro uso per scoppi produttivi e creativi quindi OpenStreetMap che adesso andiamo subito a vedere è una mappa di tutto il mondo è una mappa di tutto il mondo dove ci sono tutte le città ma nel senso che tutte le città anche a livello molto dettagliato alcune come Milano adesso vi faccio vedere che tutto il mondo è mappato possiamo andare anche con la ricerca New York vediamo un attimo come abbiamo fatto New York poi vediamo Milano ci sono tutti gli edifici, le strade poi se si zoom ancora ci sono addirittura anche i civici quindi possiamo andare a vedere Milano come messa perché questo dipende dalle comunità dall'interesse che si ha nel mappare le varie città se magari facciamo un confronto lo apriamo in due schede separate ok, lo apro qua togliamo un attimo allora queste schede qua abbiamo detto New York ho staccato ho schiacciato lo stato ok, dovrebbe essere qua perfetto andiamo ad esempio a un livello di zoom massimo zoom avanti, zoom avanti ok, si no troppo, no ok, va bene massimo quello è più o meno il centro di New York così vediamo proprio il dettaglio e la diversità delle mappe qui quindi a New York sembra che ad esempio le informazioni più dettagliate come i civici qua sulla destra e tutte le informazioni sulla strada magari anche le strade magari per i mezzi pubblici è molto molto più dettagliata anche Milano non ci possiamo lamentare però ad esempio il dettaglio dei civici non ci sono facciamo due zoom indietro ecco qui come si presenta la cosa che più particolarmente si vede il dettaglio che c'è a New York è la suddivisione degli edifici quindi le entità immobiliari sono molto più divise mentre ad esempio la scuola pubblica questa è la banca d'Italia è vero sono un edificio continuo però se vediamo tutti questi gruppi di edifici qua sono molto più dettagliati quindi adesso che abbiamo visto che cos'è OpenStreetMap un attimo che esco per iniziare a mappare bisogna fare qui StartMapping viene richiesto l'indirizzo email un nome utente e una password io li ho già creati quindi faccio login aspettate l'email di conferma e potete iniziare a mappare andiamo fuori da Milano perché comunque è molto mappato il primo esercizio di oggi è quello che incominciamo subito con l'editor che si chiama ID infatti se vedete qua modifica abbiamo un editor ID un potlatch e un altro software più dedicato ma non accessibile da browser ma che quindi dovete installarvi è JOSM o Mercator che però vedremo in più avanti oggi utilizziamo l'editor ID andiamo in una zona che conosciamo clicchiamo su modifica si la prima cosa è che ok come si fa mappare o si va in giro con un dispositivo GPS o comunque uno smartphone e si segnano i punti o comunque se vedete la differenza qui c'è la foto aerea ci esce un attimo dall'editing qui non c'è la foto aerea perché il significato è ok mappiamo tutto in vettoriale con le informazioni le foto aerea si è molto bella si vedono molti particolari ma non hanno informazioni rintracciabili ad esempio con delle query di riccerca quindi quando si va in modifica appare la foto aerea in questo caso di Bing e noi possiamo ricalcare gli edifici la cosa più facile è passo 1 identificare un luogo in cui non ci sono gli edifici disegnati ad esempio questi edifici anche se sono disegnati male ci sono mentre questi altri edifici non sono rappresentati la cosa più facile da fare oltre a sistemare un po' queste linee si preferisce andare sull'angolo del tetto o comunque se si vede la pianta dell'edificio si può ricalcare quella magari alcune volte le foto aeree sono storte e si vede l'edificio in diagonale e quindi si riesce a ricostruire la pianta dell'edificio invece quando così le foto aeree sono dritte si può andare tranquillamente ai margini del tetto sistema anche questa qua è un po' nascosta però si può disegnare in questo modo adesso sto modificando degli edifici già esistenti però andiamo a disegnare un nuovo edificio andiamo a disegnare questo in open sitemap si possono disegnare i punti le linee aree come comunque in un normale GIS punti sono elementi puntuali tipo questo che è sarà il no non mi dice che informazione è so che da queste parti c'è il il mcdonald eccolo qua il mcdonald non è segnato come edificio si può mettere come attività come punto invece le linee sono comunque le strade e le aree possono essere o l'uso del suolo o comunque gli edifici ci posizioniamo su questo edificio cerchiamo di mappare di disegnare il contorno del tetto alla fine l'ultimo punto cosa succede si può schiacciare tranquillamente invio e lui regista l'ultimo punto che è stato selezionato adesso lui qua a sinistra ci chiede cos'è un edificio uno specchio d'acqua un parco una respedaliera l'uomo di culto caffè ristorante noi adesso mettiamo area perché diciamo il trucchetto che vi voglio insegnare per facilitare un po' la mappatura questo edificio non è che sia tanto diverso da questo o da quest'altro quindi noi disegniamo l'edificio e andiamo a copiare i tag i tag sono importanti perché ad esempio questo edificio è attualmente un'area non ha nessuna specifica forse non viene neanche rappresentato su OpenStreetMap come un edificio finché non si da una categoria noi adesso andiamo a prendere a dare questa categoria lui ci mette automaticamente area la copiamo direttamente da questa questa è building bunker perché comunque è una caserma non ci facciamo molte domande su come dare la categoria perché per la specifica della categoria facciamo subito un altro esercizio ma qua è per la mappatura è una mappatura veloce un primo impatto un primo approccio ad OpenStreetMap mettiamo le stesse informazioni che ci sono in un edificio vicino che comunque sembra nella stessa area ovviamente non andiamo a prendere questa che è una casa ma andiamo a prendere quello che è nello stesso contesto questo è un building bunker e la mettiamo anche qui non me lo sta selezionando perché ho tolto area ok se io tolgo area questo qua diventa una strada quindi mettiamo building boom bunker perfetto adesso abbiamo finito possiamo mappare anche tutti gli altri però questa qua è la procedura è la procedura che si fa con l'editori d serve un account OpenStreetMap e serve semplicemente un browser ho visto che l'editori d non funziona bene su internet spoiler quindi vi consiglio di usare o firefox o chrome alla fine di tutto salvate mettete il commento inserimento edificio legnano per tutorial video metto metto l'hashtag lug legnano e salvo lui mi dice hai fatto queste modifiche hai creato un bunker hai modificato le ale degli edifici di fianco hai modificato un punto prova perché l'ho spostato un attimo e ho appunto creato un nuovo edificio faccio salva con il commento così la community OpenStreetMap se qualcuno della community OpenStreetMap passa di qua vede che ho fatto questa modifica e l'ho fatta per fare questo tutorial se volete potete anche condividere su Twitter su Facebook su Google Plus e niente finito il tutorial vi aspetto per il secondo step e ovviamente vi aspetto il mercoledì sera dalle 9 a mezzanotte a Legnano per informazione scrivete pure al Lug Legnano o comunque andate a visitare il sito www.luglegnanowordpress.com dove potete trovare tutte le informazioni che vi servono e che vi sto raccontando ciao alla prossima